Grazie Presidente, questa mozione trae spunto dall'impulso e da una mozione approvata nel Municipio XII che chiede particolare attenzione per un mercato storico della Capitale. È un mercato che risale dal 1940 e che in zona insiste dal 1960. È fondamentale per noi ribadire che questi mercati vanno tutelati. La nostra città purtroppo vive una situazione che deve essere recuperata e innegabile e vale per i mercati come vale per altre immobili e tipologie presenti. Parlo di scuole che hanno bisogno di interventi, parlo di immobili di Roma Capitale. Le normative sono cambiate nel corso degli anni ma non sempre si è potuto dar seguito con appropriati fondi. Ora, tornando al nostro mercato, parliamo di 126 posteggi autorizzati di commercio sulla Repubblica che danno lavoro a queste famiglie, che forniscono servizi, a nostro modo di vedere, pubblici essenziali che non vanno interrotti. La legge, ricordo, che punisce insomma l'interruzione di un servizio pubblico essenziale. Noi con questa mozione cosa chiediamo? Chiediamo il finanziamento di un opportuno progetto che risponda alle esigenze del territorio, quelle appunto sancite poi nella mozione che abbiamo citato. La realizzazione dello stesso per l'istituzione scusate la realizzazione per il nuovo mercato che fornisca, come dice la mozione stessa del municipio, un plateatico attrezzato quindi a norma, un'area sociale dove vivere il mercato negli orari di mercato con elevati standard qualitativi per quanto concerne anche l'abbattimento delle quartiere architettoniche, un parcheggio interrato e semi interrato che possa fornire appunto d'essere d'ausilio per i servizi del mercato e per gli utenti, l'utilizzazione di materiali riciclati e riciclabili con l'uso di energie green e con una certificazione a plus. Questo è scritto nella mozione del municipio. Vogliamo anche che tutto ciò sia realizzato in tempi brevi e chiediamo quindi alla sindaca e alla giunta di fare tutto ciò che è possibile per la promozione di un concorso di progettazione a procedura aperta per la realizzazione di un mercato, quello appunto sulla Gianicolense, sito in piazza San Giovanni di Dio, che tenga conto di tutte queste considerazioni. Grazie.